E se fosse andata diversamente? Ciao sono Marco e bentornato nel mio canale. Ho visto un film ultimamente, Sliding Dorts. Il film è molto vecchio, però che parla di una tematica molto particolare. E se fosse andata diversamente? E se invece di prendere una strada l'avessi presa un'altra? Come sarebbe andata a finire la mia vita? Questo è un interrogativo veramente enorme nella nostra vita. E spesso, eh sai, se con le conoscenze di ora andassi nel passato, vivrei completamente un'altra vita. Quante volte, eh cacchio, se non avessi speso quei soldi in quella cosa, con la conoscenza di ora, ora avrei miliardi. E tante, tante altre cose. Spesso le persone si interagono sul proprio passato. Non apprezzando le scelte che hanno fatto. Perché? Perché non avevano la consapevolezza che hanno ora. Ma è normale. Perché te ora puoi compiere una scelta. Magari fra due o tre anni ti accorgi che questa scelta non era consola per te. Ma te la accorgi perché hai avuto esperienza. Ma in quel momento quella fatta è la migliore cosa per te. Quindi, Sliding Doors, questo film fantastico, che ti spiega come due vite possono completamente cambiare per una scelta, ti fa capire anche quanto è importante la scelta che facciamo. E che bisogna fare in modo il più possibile che sia nostra la scelta, non degli altri. Quel film mi ha fatto veramente aprire gli occhi. Anche perché tratta di varie tematiche. Ma soprattutto ho pensato a una tecnica, a un modo di poter usufruire di questo film. La nostra mente è una nostra mente astratta, è veramente stupenda. Perché noi possiamo immaginare, sognare, creare qualsiasi cosa nella nostra mente. Diciamo che un po' ultimamente la stanno un po' spingendo, però diciamo che la fantasia è una delle chiavi della nostra mente, è quello che ci distingue maggiormente dagli altri esseri viventi. E quindi sfruttiamola questa mente. Come abbiamo le nostre fantasie sessuali, come creiamo le nostre ricette nella nostra testa, come viviamo sogni e via dicendo, possiamo utilizzare la nostra mente come una macchina del tempo. La macchina del futuro in avanti. Come? La mente, il più delle volte, spesso, quasi sempre, quando sogniamo ci manda dei segnali, il suo inconscio ci manda dei messaggi attraverso i sogni. Spesso i sogni sono veramente assurdi, cioè con cose che veramente nemmeno mai penseresti, ma che in realtà è immagazzinato. Ecco, sfruttando il discorso dei sogni possiamo farlo nel quotidiano. E quindi, esempio, se io prendo questa penna, questo divinziatore, e lo passo qui, cosa succede? Tutti diranno, eh, lo prendi e ti rimane il segno verde e ti direi, come fai a saperlo? Questo l'ho parlato in un altro video. E tu mi diresti, eh, perché l'ho fatto anch'io tramite la tua esperienza. Quindi, la mente è collegata alle tue esperienze e quindi puoi proiettare una scelta in maniera differente. Esempio, io devo comprare una macchina o magari devo comprare un libro, devo mangiare un qualcosa. Anzi no, facciamo una cosa un po' più bella, complicata. Devo fare una scelta fra due persone. Amo queste due persone, voglio stare con queste due persone, ma devo fare una scelta perché non posso stare con entrambi. E quindi, da lì parte l'esercizio. Switchi la testa e ti vivi la vita con una persona, una delle due persone. Ovviamente te hai esperienza di come è fatta questa persona, di cosa prova, di come è la sua mentalità, e il suo carattere, tutto quello che riguarda questa persona. Quindi persona A e persona B. La tua mente parte con la persona A e quindi vive la vita ipotetica con la persona A. E pensa al futuro, pensa a prendere casa con la persona A, pensa a sposare magari la persona A se ti vuoi sposare, pensa ad avere figli se vuoi avere figli con la persona A e pensa a vivere con la persona A. Fino alla fine. E pensa come potrebbe essere. E l'ambiente si basa sulle tue esperienze. Poi lo fai con la persona B. E via dicendo. Facendo questo, per tutto quello che fai, riuscirai a stilare una scaletta di ipotetici viventi che potrebbero succedere. Ora, non funziona al 100% perché non sei Nostradamus e sei le cose in anticipo. Però ti può aiutare molto a rendere più, diciamo, a tatto tuo, a vedere meglio le situazioni che potrebbero succedere, che magari te dai per scontato, ma che magari pensandoci dici cacchio, però effettivamente ipoteticamente dovresti fare un figlio o sposarmi in persona B sarebbe un po' un casino perché, ne so, magari lei ha un'altra cultura o non vuole figli e roba pare. E qui già cominci a capire che magari nel luffo del momento non ci pensi. Probabilmente l'uscita dopo diresti ma magari meglio di no. Cioè, tutto quello che ti succede lo puoi vagliare con questo esercizio. L'unica cosa è che devi essere costante nel farlo in tutte le scelte che fai. Compro questo libro o non lo compro? Se non lo compro non ho accesso a questa conoscenza. Però se lo compro sì, per me è il contrario. Se lo compro ho accesso a questa conoscenza se non lo compro non ho accesso a questa conoscenza. Ma magari questi soldi potrei utilizzare per qualcos'altro che mi serve. Cioè, è ingarbugliato il mio discorso. Però, a me ha aiutato moltissimo, tantissimo e ho evitato scelte che mi avrebbero fra virgolette fatto male in questo modo qua. non perché prevedevo il futuro ma perché ci ragionavo sopra. Una scelta rispetto a quell'altra. Qual è quella migliore e qual è quella peggiore? Qual è quella più consona a te? Qual è quella che non è consona a te? Quella che ti riguarda direttamente o magari è una scelta di un'altra persona? E via dicendo. E come la classica vabbè, classico esempio ti chiamo te sei stanco a casa sei uscito dal lavoro sei marcio sei a casa un video di andare a letto ti chiamo i tuoi amici oh, vieni alla festa perché c'è la festicciola. A vado mi investo vado a miei amici con il rischio che sono stanco con il rischio magari di ridormentarmi per la strada con la macchina di picchiare a qualche parte oppure vado là e magari conosco persone sgradite o magari conosco persone gradite o magari bevo e mi sento male o magari non bevo e passo una serata in mannoio però c'è che il giorno dopo devo andare al lavoro e quindi magari sarò ancora più stanco e magari al lavoro lavorerò male e magari il mio capo non mi tratterà bene o roba del genere piano B ragazzi stasera sono stanco preferisco riposarmi e domani starò meglio cioè devi valutare un po' le cose è garbugliato ti ripeto però a me è aiutato tantissimo e te lo devo trasmettere anche a te quindi ovviamente ti invito qui sotto nei commenti a scrivere cosa ne pensi più che altro se anche te ci sei ritrovata in questa situazione io ti ringrazio come sempre per aver visto questo video ti ringrazio per la tua presenza e per il tuo preziosissimo tempo ti invito se ancora non l'hai fatto iscriviti sotto al canale Telegram e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornata aggiornata su tutti i video che farò ti invito sempre ad iscriverti al canale Telegram e troverai il link qua sotto e ti auguro un buon proseguimento di giornata e rifletti su quello che ti ho detto Sliding Doors film veramente fantastico che mi ha fatto aprire la mente ciao alla prossima grazie 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 ancora per aver visualizzato questo video e per il tuo tempo se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale e a cliccare nella campanella qua sotto e a scrivere nei commenti cosa pensi di questo video se l'hai trovato interessante se ti ha fatto venire dei dubbi perché perché io voglio farti venire i dubbi perché i dubbi portano alla curiosità e la curiosità porta alla conoscenza questo te lo dico perché per mia esperienza personale l'ho vissuto circa due anni fa quando mi sentivo un po' perso un po' dato da questo periodo un po' strano e non sapevo sinceramente dove andare e grazie a Business Inbox Italia mi ha dato una spinta nella conoscenza mi ha dato una spinta per cominciare a farmi un lavoro da casa lavorando online come digital marketer e anche fortunatamente mi ha fatto scoprire il mondo delle criptovalute e tante 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 altre cose se anche te sei interessato clicca nel link qui sotto sul webinar però non è questa la sede per parlarne la cosa più importante che mi preme tantissimo e che tu piano piano cominci ad aprire gli occhi e a capire che questo mondo è pienissimo di informazioni è pienissimo di di concetti di strategie ma soprattutto è pieno pieno di conoscenza l'informazione è l'oro è la moneta di questo mondo che sta completamente evolvendo alla velocità della luce quindi entra nel gruppo telegram che troverai il link qua sotto di se sei direttamente a contatto con me e con altri ragazzi del canale lì posto film che mi hanno aiutato alla crescita posto informazioni posto tutto quello che a me è servito per crescere per migliorare le informazioni che per me valgono veramente oro sei direttamente a contatto con noi se vorrai iscrivermi non c'è problemi io ti rispondo appena la disponibilità cerco sempre di aiutare le persone che hanno bisogno e che mi chiedono una mano senza nessun tipo di problema senza nessun limite di tempo tranquillamente anzi è una cosa che adoro fare quindi iscriviti al canale e trova il link qua sotto non rimanere indietro stai sempre sul pezzo cerca sempre di aggiornarti e cerca sempre nuove informazioni ogni giorno perché questo è la base per l'evoluzione personale è la base per migliorare la tua vita è la base per migliorare te stesso perlomeno secondo la mia esperienza e secondo cosa sto vivendo io ti ringrazio ancora per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima e non vedo l'ora ciao